Ciao a tutti e beh si può dire o no ormai tanti auguri visto anche quello che c'è alle mie spalle la scorsa settimana vi avevo detto che non sapevo che cosa avrei fatto per questa puntata ultima puntata del 2019 di 7 giorni con in realtà lo sapevo puntata speciale ovviamente a sfondo natalizio per così dire 7 giorni con Smart World il sistema mi hanno detto che devo fare una presentazione mi hanno detto che devo dirvi che cosa faccio devo dirvi chi sono Emanuele Cisotti alias Ciso non so come mezzo mondo mi chiamasse già Ciso avevo smesso di usarlo ma voi tutti continuate a chiamarlo così forse perché il nickname di Instagram non lo so colpa vostra e sono stra sicuro festa aziendale si abbiamo anche una fantasticissima festa aziendale di cosa mi occupo beh principalmente mi occupo di gestire tutte le persone fra cui si c'era il pubblico spoiler è così che funzionano i video c'è sempre qualcuno dietro che ti guarda e ti mette in soggezione quindi gestisco tutto quel team lì gestisco i rapporti soprattutto con tutto il resto dell'azienda gestisco i rapporti con le aziende e voi lo sapete faccio anche forse è il motivo se mi conoscete già per le recensioni degli smartphone non solo un po' di domotica un po' di wearable e poi c'è quella persona lì che mi ha detto di stringere e appena perso il lavoro perché nel senso non capisco non capisco come si possa permettersi di dirmi di stringere e questo qual è il commento? assolutamente no non so per cosa ciao e auguri io non so assolutamente cosa dire comunque sono Lorenzo Delli mi occupo prevalentemente di sollazzarmi tutto il giorno con i videogiochi no non è propriamente così vi aiuto diciamo a scegliere i videogiochi più adatti a voi vi aiutano a scegliere le console più adatte a voi gli accessori gaming e poi mi occupo anche dei canali social diciamo non 24 ore su 24 altro ma se trovate qualcosa pubblicato sulla pagina di Android World o di Smart World probabilmente ci sono dietro io sto parlando di Facebook seguiteci su Facebook se ancora non lo fate quindi quando c'è un meme quando c'è un commento che non vi piace quando c'è una considerazione che non vi piace di solito è colpa mia comunque con questa scusa di presentarci era anche più che altro una scusa per farvi gli auguri di un buon Natale ciao io sono Giuseppe Tripodi sono il traditore del gruppo perché sono iniziato con Android World fare tutte le guide sul mobile quelle cose belle e poi sono passate ad Apple quindi adesso mi occupo di iPhone, di MacBook tutte quelle volte che ci insultate perché io dico che la roba Apple funziona bene ecco quella è colpa mia oltre che Apple mi occupo un po' delle riduzioni dei prodotti audio delle cuffiette True Wireless che vi dico di non comprare le cose troppo economiche e poi mi occupo degli book reader insomma un po' di vari prodotti di tecnologia e poi mi sposto per non intracciare le persone ma soprattutto vi faccio un sacco di auguri per un buon Natale ciao ciao io sono Grazie Oce Nicola e lavoro per SmartQuartz da tanti tanti anni ma ho iniziato soltanto qualche mese fa a lavorare in redazione a Firenze e mi occupo praticamente di offerte tutto quello che riguarda le offerte è colpa mia tutto quello che riguarda il canale Telegram delle offerte è colpa mia e tutto quello che riguarda qualsiasi tipo di promozione anche sui videogiochi anche sui accessori qualsiasi cosa è sempre di un canale quindi prendete la domanda e non solo però perché faccio anche ogni tanto recensioni di videogiochi notizie sui prodotti quello che c'è da fare lo faccio e soprattutto mi colgo questa occasione per farvi vedere questo oggettino qua che è una specie di tronchetto di Natale di SmartWorld e quindi vi auguro anche buone feste, buon Natale, buon Capodanno ciao ok a questo punto credo che sia giunto anche il mio momento sono Nicola Ligas, sono il vostro presentatore nonché diciamo un po' tutto fare probabilmente mi conoscete da Android per i miei approfondimenti su Android stesso sulle tematiche legate ad Android oppure per i box con Android oppure per le recensioni dei portatili su SmartWorld delle cuffie audio sempre su SmartWorld dei droni insomma faccio diciamo un po' di tutto e ovviamente sono il presentatore unico di questa rubrica internazionale nota come 7 giorni con che riscuote sempre maggiore consenso e maggiore fama anche all'estero e piccolo dettaglio che forse non sapevate qualunque articolo leggiate sul nostro network passa prima dal mio vaglio cioè sono io bene o male che decido quello che voi potrete o non potrete leggere quindi se c'è qualche articolo che avete visto che vi è particolarmente piaciuto c'era dietro in un certo senso il mio zampino e se c'è qualcosa che non avete visto in un certo senso anche lì c'è dietro il mio zampino e poi beh ci sono tante altre cose ma non vi voglio tediare perché siamo qui in fondo un po' per presentarci ironicamente un po' soprattutto per farvi gli auguri di Natale vi do appuntamento fin da ora alla prossima stagione per così dire di 7 giorni con che ci sarà ovviamente nel 2019 tantissime sorprese non vi anticipo quale sarà il primo dispositivo protagonista saranno due se non tre settimane anziché una canonica perché appunto c'è la pausa natalizia ma adesso do con molto piacere la parola anche a tante altre persone finora avete conosciuto bene o male tutti quelli che sono con me in ufficio a tante altre persone che collaborano con noi e che ci aiutano ogni giorno a realizzare nuovi contenuti qualsiasi cosa vi stia dicendo è falso perché principalmente passa il tempo a mangiarla un saluto a tutti gli amici di smartworld.it sono in questa location abbastanza bucolica dovete indovinare nei commenti dove mi trovo è molto importante comunque sto per andare al barbiere però ho voluto mantenere questo look abbastanza trasandato per far sfigurare i miei colleghi comunque a parte gli scherzi io mi chiamo Giorgio e collaboro con i ragazzotti di Android World da circa 7 anni mi ricordo il mio primo articolo è quello di Humble Bundle è una raccolta di giochi fondamentalmente per Android come avete capito insomma tratto principalmente videogiochi su Android World Mobile World e soprattutto Smart World in quest'ultimo periodo soprattutto quest'anno che dire recensioni di videogiochi video recensioni di videogiochi ma anche altri in realtà soprattutto quelli più attenti tra di voi sicuramente se ne saranno accorti notate il cappello perché sono bravo a contare i video personalmente sono molto bravo questo video me l'ha chiesto Nicola e anzi mi ha costretto a farlo quindi molto molto male molto molto male sono qui per farvi gli auguri di buon Natale di buon anno e spero che troviate sotto l'albero quello che avete chiesto un saluto speciale a tutti i nostri lettori ai nostri sostenitori anche ai nostri detrattori perché sono molto importanti grazie di tutto e ciao da Giorgio a tutti sono Vincenzo e collaboro con Smart World da quasi un paio d'anni ormai e da sempre sono stato appassionato del mondo della tecnologia e in particolare del mondo Android sin da quando acquistai il mio primo Galaxy S2 anche per questo motivo sono la persona che è più stalkerata in famiglia ma anche tra amici quando c'è da chiedere un consiglio sullo smartphone sul pc da acquistare Android World era sempre stato un punto di riferimento per me e poi mi ha permesso di trasformare quello che era un hobby e una passione anche in un lavoro e devo dire che sono veramente molto contento di essere entrato a far parte di questo gruppo nella vita sono un ingegnere biomedico lavoro e vivo attualmente a Roma dopo aver vissuto un paio d'anni all'estero e oltre alla tecnologia mi piace anche il mondo della fotografia ed i dolci dunque capirete bene che questo per me è uno dei periodi migliori dell'anno e spero che lo sia anche per voi e ne approfitto per augurarvi Buon Natale ciao a tutti io sono Matteo ho 27 anni e sono circa due anni che scrivo articoli su Smart World io ovviamente faccio anche altro nella vita quando ho iniziato a lavorare per questa bella cubricola facevo il dottorando all'università di Padua e da un paio di mesi ho iniziato a fare un assegno di ricerca sempre all'università di Padua seguo anche esami cose del genere corsi per un professore dell'università quindi se per caso qualche ragazzo che segue Smart World mi riconosce mi dispiace che ci siamo inizi ieri spero che ci sia andato bene e niente qui adesso stiamo festeggiando visto che è uno degli ultimi giorni in università e vi auguro a tutti un buone feste un buon Natale e un buon 2020 ciao ciao a tutti io sono Enrico e sono il più giovane della famiglia Smart World con i miei 25 anni sono anche l'ultimo arrivato quindi cronologico dato che ho iniziato a scrivere lo scorso aprile nel 2019 nella vita di tutti i giorni mi occupo di altro gestisco una piattaforma finanziaria quindi è quello il mio interesse principale ma la tecnologia è sempre stata parte della mia crescita da quando ho briccato il primo smartphone all'età di 18 anni credo che fosse un LG L9 un bel padellone quando ancora non esistevano molto questi padelloni quindi mi diverto a scrivere e spero che possiate passare delle buone feste e che possiate divertirvi anche voi leggendo i nostri articoli e guardando i nostri video Buon Natale Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in one horse oh sleigh o oh 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 Grazie.